Ciao, sono Filippo Macchiarelli, insegnante di contrabbasso e basso elettrico a scuoladimusica.org. Nel percorso didattico affronteremo lo studio di diversi generi musicali come rock, pop, jazz, e funk. Studieremo il ruolo del basso nei diversi generi musicali e affronteremo le diverse tecniche di accompagnamento in relazione agli stili. Sarà interessante scoprire la funzione ritmico, armonica e melodica di questo strumento e la sua evoluzione negli anni da strumento di accompagnamento a strumento solista. Ti aspetto a scuoladimusica.org. Ciao.